salve oggi parliamo degli ossidi detti anche ossidi basici quando l'ossigeno si lega ad un metallo in questo caso l'ossigeno assume sempre stato di ossidazione meno 2 nella formula classica generale troviamo m che è il pedice del metallo che corrisponderà allo stato di ossidazione dell'ossigeno e l'n lo stato di ossidazione del metallo quindi qui andremo a fare una serie di esempi con gli incroci passiamo immediatamente al primo composto che è costituito da rame e ossigeno anche qui definiremo il nome tradizionale e il nome secondo la nomenclatura IUPAC il rame può avere stato ossidativo come abbiamo detto più 1 e più 2 quindi poiché l'ossigeno ha sempre stato di ossidazione meno 2 quindi andremo a inserire sotto il rame il pedice 2 in modo tale che la somma degli stati di ossidazione sia pari a 0 in questo caso come verrà chiamato nella nomenclatura tradizionale sarà chiamato ossido rameoso mentre nella nomenclatura IUPAC verrà chiamato ossido di rame consideriamo in questo caso l'ossigeno legato l'ossigeno legato in questo caso l'ossigeno legato al rame con stato di ossidazione più 2 quindi come verrà chiamato ossido rameico mentre nella nomenclatura IUPAC verrà chiamato ossido di rame consideriamo un'altra molecola in questo caso prendiamo il ferro il ferro stato di ossidazione più 3 e più 2 quindi più 2 più 3 l'ossigeno sempre meno 2 quindi come andremo a costruire la molecola andremo a costruirla considerando la che cosa la somma degli stati di ossidazione in questo caso la somma è 0 per cui il composto verrà chiamato ossido ferroso in questo caso dovremo invece andare a eseguire quello che si chiama incrocio e cioè mettere il 3 sotto l'ossigeno e il 2 sotto il ferro questo perché la somma algebrica debba essere 0 quindi in questo caso il composto si chiamerà ossido ferrico mentre la nomenclatura IUPAC andrà a chiamare in modo generico indicando soltanto i pedici quindi in questo caso sarà ossido di ferro in questo caso verrà chiamato triossido di ferro facciamo un altro esempio prendendo in considerazione lo stagno lo stagno avrà stato di ossidazione più 2 e più 4 inseriamo sempre il numero di ossidazione sull'ossigeno in questo caso anche facendo l'incrocio andranno a semplificarsi come verrà chiamato questo composto verrà chiamato ossido stannoso mentre nella nomenclatura tradizionale verrà chiamato ossido di stagno questo composto vediamo come eseguire cioè mettiamo il 2 sotto lo stagno il 4 sotto l'ossigeno semplifichiamo quindi la molecola che ne deriva sarà SN O2 quindi come si chiamerà nella nomenclatura tradizionale verrà chiamato ossido stannico nella IUPAC ossido e biossido di stagno anche qui come avrete ben capito le desinenze sono come quelle che noi abbiamo visto nel caso degli idruri ora vi voglio presentare due eccezioni e sono relative al manganese e al cromo ora noi tecnicamente potremmo costruire gli ossidi con tutti quei composti che si trovano in natura anche sotto forma di metalli però alcuni elementi di transizione possono comportarsi sia da metalli che da non metalli il classico esempio è il manganese che ha tantissimi stati di ossidazione che vanno da più 7 più 6 più 4 più 3 più 2 in questo caso se dovessimo trovare un ossigeno legato al manganese dovremmo sapere come chiamarlo allora possiamo dire che il manganese si comporta da ossido con i due più bassi stati di ossidazione mentre si comporterà come un anidride con i più alti stati di ossidazione questo concetto lo andremo a ripetere quando analizzeremo le anidridi io consiglio di studiare gli ossidi e le anidridi in sequenza in modo da memorizzare al meglio i concetti ora quindi andiamo a costruire le molecole prendiamo il manganese con stato di ossidazione più 2 mettiamo sempre il meno 2 prendiamo il manganese con stato di ossidazione più 3 e l'ossigeno sempre meno 2 anche qui la regola dell'incrocio in questo caso non c'è bisogno in quanto tutte e due hanno lo stesso valore come verrà chiamata la molecola nel primo caso con la nomenclatura tradizionale verrà chiamato ossido manganoso quindi desinenza sempre ico ed oso quindi ossido manganoso mentre nella iupa che verrà chiamato ossido di manganese in questo caso in me vede quando il manganese è stato di ossidazione più 3 faremo sempre il famoso incrocio 2 sotto il manganese e 3 sotto l'ossigeno quindi la molecola che ne deriverà sarà Mn2O3 ripeto la somma algebrica deve essere pari a 0 quindi come si chiamerà questo composto nella nomenclatura tradizionale si chiamerà ossido manganico mentre nella nomenclatura iupac si chiamerà triossido di manganese ora esaminiamo un'altra eccezione che è il cromo il cromo può avere stato di ossidazione più 6 più 3 e più 2 in questo caso ricordiamoci che il cromo si comporta come ossido con i più bassi stati di ossidazione mentre si comporterà come anidride con lo stato di ossidazione massimo quindi andremo a definire il cromo più 2 l'ossigeno sempre valore meno 2 e il cromo con stato di ossidazione più 3 anche in questo caso il primo è perfettamente bilanciato e come verrà chiamato in nomenclatura tradizionale verrà chiamato come ossido cromoso mentre in nomenclatura iupac verrà chiamato ossido di cromo semplicemente in questo caso invece col cromo con stato di ossidazione più 3 quindi andremo a inserire il 3 sotto l'ossigeno e il 2 sotto il cromo quindi come verranno la molecola chiaramente che deriva è la seguente cr2 o 3 cioè come verrà chiamato in nomenclatura tradizionale verrà chiamato in questo caso come ossido cromico mentre in nomenclatura iupac verrà chiamato come triossido di cromo spero che questa lezione vi sia piaciuta se volete iscrivetevi al mio canale o schiacciate un like se volete iscrivetevi al mio canale se volete iscrivetevi al mio canale